No, è l'ultima occasione per raccogliere qualcosa, ho raccolto comunque molti piazzamenti, ho fatto una stupenda corsa nella tappa di Pinerolo, quindi da un lato sono anche molto soddisfatto del corridore che mi sono tra virgolette riscoperto, che comunque da dilettante facevo quelle cose là, quindi vediamo oggi di raccogliere magari qualcosa di più importante. Sarebbe forse la ciliegina sulla torta su un buon giro? Sì, hai detto bene, sarebbe la ciliegina sulla torta, i piazzamenti sono stati belli, però la vittoria è la vittoria. Cioè magari una piccola speranza in maglia rossa o è troppo difficile? No, è distante, dovrei fare dei traguardi volanti e vincere la tappa e Giacomo non fare nulla, e la vedo dura che Giacomo non faccia nulla, pensiamo là che ce la giochiamo io e lui, quindi mi sa di no.